Per me adesso e per i miei colbani di squadra da aiutare alla vita. Vi assumiamo un attimo per velocizzare, non me ne vorrà Pier Giorgio. Ringrazio i miei allenatori, Fabio, Sonia, Emanuela e Andrea che mi hanno sopportato e tutti gli amici atleti con cui ho avuto tanti successi sportivi, poi racconta della sua grande carriera con 251 metari, ha fatto la scuola al berghiera dove si è ritrovato e poi racconta del race maker, quello che avevo già anticipato io e chiaramente dice che sei tutto contento di quello che la vita e lo sport gli hanno dato e gli daranno il futuro e per questo non mollerò mai. E adesso passa la parola a Presidente Diego, a tutti i paesi.